La robotica negli ultimi anni sta veramente facendo dei passi da gigante. Il mio amore prima vista per la scienza è stato proprio alle medie, quando sono entrato nel laboratorio di scienze, quindi vedendo tutti gli animali più strani, chiusi nei barattoli. Amore, amore, scienza pura. Secondo me il bello della scienza siamo noi. Musica Ricordo quando alle medie il mio professore mi portava, in escursione a toccare con mano proprio la scienza, quindi gli animali, le piante e poi con tutti i nostri ritrovamenti in classe potevamo parlarne. Musica 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 Musica